E in sala c'è qualcuno di Clifton? Ah, bene, possiamo rilassarci allora. Dunque, signori, vorrei cominciare col dire che i miei genitori erano troppo poveri per permettermi un'infanzia a Clifton. Vedete, il fatto è che non è permesso a nessun abitante essere troppo povero a Clifton, perché se scendi sotto un certo livello, ti esigliano a Pesceic. Adesso non fraintendetemi, eh, i miei genitori pagarono le prime due rate per la mia nascita puntualmente. Però mi riportarono all'ospedale perché ero difettoso.